Cristina Riccardo Revisore Dimostra di essere un uomo. Quante volte ce l'hanno detto, sin da piccoli, non essere una femminuccia, sì uomo. E con questa idea di dimostrare di essere uomini passiamo tutta la vita a sfidarci tra uomini, a litigare per un parcheggio, a non accettare uno sgarbo, a non accettare che sia possibile che una donna ci dica di no, che una donna ci contraddica, che una donna ci lasci, anche usando la violenza per difendere il nostro onore di uomini, la nostra immagine. La chiamano mascolinità tossica. Tossica non solo perché produce violenza contro gli altri, contro le donne, ma anche perché produce una miseria nella vita degli uomini, perché ingabbia gli uomini in una necessità di mantenere sempre la faccia, di stare dentro un ruolo molto rigido e soprattutto di pensare che la nostra identità dipenda dal nostro potere, dalla nostra capacità di controllo, di noi stessi, dell'altro e del mondo attorno a noi. Insomma, una vita sempre sotto l'ansia della prestazione e del controllo. Ma se invece provassimo a cercare il coraggio di rompere questa gabbia, di rompere l'idea di dover essere un monumento di se stessi, di dover corrispondere al proprio onore, alla propria immagine pubblica. Insomma, l'idea anche di sfidare un po' l'imbarazzo, la difficoltà, il ridicolo. Quando a tre anni ci si dice non piangere se no sei una femminuccia, se ci pensate ci stanno dando due messaggi. Le femmine sono ridicole perché sono emotive, instabili, ma gli uomini non hanno diritto ad esprimere, a riconoscere, ad essere in contatto con le proprie emozioni. Quindi una gerarchia che produce anche una miseria. Invece forse l'imbarazzo è importante perché l'imbarazzo è quell'esperienza, quella sensazione che ci dice che stiamo toccando i confini della identità che la società ci autorizza a percepire e a rappresentare. Quando ci sentiamo in imbarazzo sappiamo che stiamo per fare qualcosa a cui non siamo autorizzati. Io, per esempio, sono come tanti degli uomini forse anche qui presenti, sono sempre stato un ciocco di legno a ballare, perché mi vergognavo a ballare. Oggi non so ballare lo stesso, però accetto l'imbarazzo che vivo nel mettere in movimento il mio corpo, che invece avevo sempre tenuto sotto controllo. Ecco, provare a lavorare su questa esperienza in cui il coraggio non è la sfida contro l'altro, ma il coraggio è la sfida contro quella regola invisibile che mi dice sempre di salvare la faccia è un modo per rompere uno stereotipo, lo stereotipo della donna debole ed emotiva e dell'uomo tutto ad un pezzo. Però ecco, quando si parla di stereotipi subito qualcuno comincia a sbuffare dicendo ecco, adesso ci verrete a fare la predica, io vado molto nelle scuole e i ragazzi dicono ecco adesso verrete e ci direte questo si può dire, questo non si può dire, questo si può fare. Insomma, la dittatura del politicamente corretto, quello che è giusto dire, quello che è rispettoso dire. E su questo la reazione è io sono trasgressivo, non sto a queste regole, io me ne infischio di queste regole. In realtà se ci pensate cosa c'è di trasgressivo in quella battuta sessista, in quella battuta omofoba, nella barzelletta un po' misogina, nella battuta sulla propria collega d'ufficio. In realtà non c'è nessuna trasgressione, sono comportamenti molto conformisti, molto vecchi, che potremmo aver visto già 50 anni fa e che si riproducono sempre uguali a se stessi. Ecco, una delle trappole del discorso pubblico oggi è proprio una forma di conformismo che si maschera da trasgressione, che ci dice che i ruoli tradizionali e naturali di donne e uomini, sempre uguali a se stessi nel tempo, sono la naturalità e la spontaneità. In realtà è perfettamente il contrario. Quando noi li mettiamo in discussione, cerchiamo di svelare, di rendere visibili quelle regole invisibili che imprigionano i nostri comportamenti, che appunto ci dicono questo si può fare e questo non si può fare, se fai questa cosa non sei un uomo, se fai questa cosa non sei una donna. E attenzione, non solo questo produce un conformismo, c'è qualcosa di più. questi comportamenti falsamente trasgressivi in realtà impongono delle regole, le impongono a me. Quando in una classe noi prendiamo in giro un ragazzino dicendogli sei una checca, sei un finocchio, non stiamo semplicemente insultando quel ragazzino, non lo stiamo isolando, non stiamo stigmatizzando chi ha un orientamento sessuale diverso dalla norma. Stiamo avvisando tutti i maschi presenti in questa sala che se non si comporteranno rispetto a quello che il mondo si aspetta, se usciranno dal recinto della virilità tradizionale, precipiteranno nel ridicolo, nell'effemminato, appunto in quell'immagine che va stigmatizzata e marginalizzata. Allora il tema è che quel comportamento apparentemente trasgressivo, la parolaccia volgare, in realtà è un dispositivo che impone una regola molto rigida. Così come a una ragazza, quando le diciamo ti comporti come una poco di buono, ti vesti come una poco di buono, in realtà le stiamo dicendo una cosa precisa, devi essere carina e piacere agli uomini, ma la tua libertà sessuale non è la stessa che ho io come maschio. Io maschio posso vantarmi di aver avuto un sacco di donne, tu se lo farai, sarai considerata appunto una poco di buono. E quindi il tema è riconoscere come esistono modelli naturalizzati, cioè resi naturali per quanto sono introiettati da noi e capire come su questo si produce continuamente una pressione su di noi, anche su di me, maschio, bianco, eterosessuale, che continuamente sono sotto la minaccia di una perdita di identità se non starò dentro i canoni che mi sono stati imposti socialmente. E non a caso oggi il cambiamento viene raccontato per gli uomini come una minaccia. Gli uomini sono femminilizzati, ormai anche la moda non ci si capisce più niente, gli uomini hanno perso la loro virilità. Ancora di più, gli uomini hanno perso non solo la virilità perché effemminati, si truccano, si vestono da donne, ma gli uomini hanno perso anche quella virtù virile dell'autocontrollo. Anche la violenza contro le donne viene raccontata con l'idea che gli uomini sono confusi, che non hanno più quella legge dei padri che gli insegnava a rispettare le donne. Insomma, un po' una nostalgia di quando i mulini erano bianchi, gli uomini erano virilmente capaci di dominarsi e le donne stavano al loro posto. Ecco, questa idea la raccontava un po' mia zia, ma oggi poi viene vestita in modo molto più elegante da illustri psicanalisti che dicono l'uomo è la norma, la donna è l'emozione, senza la norma paterna la nostra società perde le proprie regole e cade nel disordine. Ecco, questo è uno degli elementi che dice il cambiamento è una minaccia. Ma c'è un ragionamento più generale che dice il cambiamento è una minaccia per gli uomini perché gli uomini sono discriminati, pensate a chi contesta le pari opportunità dicendo ma perché devono passare avanti le donne e non gli uomini che esse lo meritano? Oppure gli uomini sono discriminati nelle separazioni familiari, gli uomini sono oggetto di un pregiudizio, ce l'avete sempre con gli uomini, dite che gli uomini sono violenti. C'è come un ribaltamento dei ruoli per cui io da una posizione di potere mi racconto come vittima e spesso gli uomini violenti si raccontano come vittime, come vittime di una situazione che ha fatto entrare in crisi la loro idea di se stessi perché si sono sentiti minacciati. Ecco, qui c'è un elemento in più che secondo me non va liquidato. C'è una vera sofferenza maschile, c'è un vero disagio maschile nella nostra società ed è il disagio che deriva dal fatto che quei ruoli tradizionali, l'essere l'uomo che porta i soldi a casa, l'uomo che sul lavoro costruisce la propria identità si sono infranti. Essere l'uomo rispettato dalla propria compagna che lo assiste e che lo rispetta. Ecco, la verità è che dietro questo c'è una storia che ci dice che se gli uomini continueranno a vivere il cambiamento inseguendo quel mito tradizionale, io basto a me stesso, io sono padrone di me stesso, io mi sono costruito da solo e poi magari arriva una pandemia che ti dice che non sei per niente invulnerabile, che non sei per niente autosufficiente oppure arriva la crisi economica e ti dice che non è vero che tu basti a te stesso e che sei padrone del tuo futuro ma devi fare i conti con la tua vulnerabilità. Ecco, allora quel mito virile dell'uomo padrone di sé, artefice del proprio futuro che controlla la propria compagna, se stesso, le emozioni è un mito che produce un vicolo cieco perché condanna gli uomini a inseguire un'impossibile rappresentazione di se stessi e questo produce anche una violenza perché produce una violenza frustrata che viene anche strumentalizzata nella nostra società. Oggi uomini che si sentono privi di potere, privi di ruolo, privi di identità hanno qualcuno che gli dice ecco la colpa è delle femministe, la colpa è delle pare opportunità, la colpa è degli stranieri, la colpa è di qualcun altro perché devi dare un senso alla perdita proprio di senso della tua vita perché quell'idea iniziale non funziona più. E allora non basta chiedere agli uomini di essere buoni, responsabili, rispettosi delle donne, di essere democratici, di fare spazio. Il tema è provare a spostare il modello, non più cavalieri salvatori di donne che stanno ad aspettare addormentate che qualcuno vada a salvarle, ma uomini che vivono in un mondo in cui le donne mettono in gioco il loro desiderio, la loro libertà, la loro autonomia e uomini che scoprono che questa cosa arricchisce la loro vita, non le impoverisce. Però noi non abbiamo ancora le parole per raccontare tutto questo. Oggi un uomo che si prende cura dei figli viene chiamato mammo, cioè un uomo che fa le veci di una madre, un uomo femminilizzato. David Beckham viene preso in giro sui social perché si prende cura dei figli. Allora il tema è se non abbiamo le parole per nominare il cambiamento, per riconoscerlo, per dargli una visibilità sociale, quel cambiamento non riesce ad avere spazio, non riesce a realizzarsi, non esiste se tu non riesci a nominarlo. E così la retorica dei padri che si prendono cura dei figli diventa solo ironia sui padri che si prendono cura dei figli. Ecco io penso che invece noi dovremmo provare anche qui a darla in positivo. Gli uomini possono restare uomini e nel senso essere capaci di prendersi cura dei propri figli, essere capaci di intimità e di relazioni di cura. Allora la domanda che ci dobbiamo chiedere, domandare come uomini è ma vorremmo tornare indietro, vorremmo tornare al ruolo di nostro nonno, avere una donna muta e disponibile e avere dei figli rispettosi che ci temono oppure invece ci piace di più una vita in cui come uomini possiamo essere dei padri accudenti, presenti in relazione con i nostri figli e magari vi è un mondo in cui incontriamo il desiderio, il piacere, l'autonomia, la libertà delle donne e scoprire che questo arricchisce le nostre vite, non le impoverisce. Perché non viviamo in un mondo autistico con donne mute a nostra disposizione ma donne che ci rimandano invece il loro desiderio. Ecco, io sono un maschio, bianco, eterosessuale, normodotato, sano, produttivo. Il mondo in genere mi chiede di farmi carico delle responsabilità del mio ruolo e io penso che questo sia importante, che gli uomini riconoscano il loro privilegio, il loro potere. Ma nello stesso tempo non basta riconoscere i diritti e la dignità di chi è fuori da questa norma. Il tema per me è riconoscere come questo mio potere, questo mio privilegio, abbia anche costruito una gabbia nella mia vita. E allora quello che voglio fare non è un percorso in cui rinuncio semplicemente a un potere per una scelta volontaristica, ma perché penso che mettere in discussione quel potere è l'unica occasione che ho per costruire la mia libertà. Grazie. 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 Grazie.